Il primo maggio è la festa dei lavoratori, ma in quest'epoca di pandemia e sofferenza la celebrazione assume un altro valore. Un significato particolare è perché veniamo da un anno di grandi crisi dove abbiamo perso in Veneto più di 60.000 posti di lavoro. Però penso sia anche un anno dove noi dobbiamo fare tutta una serie di riflessioni, in primis sui tanti morti ancora che capiano purtroppo sui nostri cantieri, su tanti luoghi di lavoro. E oggi come Regione Veneto quello che stiamo facendo è potenziare sempre più i percorsi di formazione per le aziende, per quel che riguarda la sicurezza, ma anche i controlli che facciamo all'interno dei cantieri. Purtroppo dopo un anno di lavoro abbiamo tante persone che sono costrette a seguito delle limitazioni a tenere chiuse le proprie attività e quindi un pensiero doveroso va anche a loro. La sfida del futuro è la gestione delle tante persone che hanno perso e perderanno il lavoro, utilizzando al meglio anche le risorse contenute nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Fondamentale soprattutto nei prossimi mesi sarà cercare di ovviamente aiutare tutte quelle persone che hanno perso e perderanno il posto di lavoro a essere reinserite all'interno del sistema economico Veneto. Sembra impossibile però ancora oggi tante aziende cercano del personale di una certa professionalità e oggi penso che il dovere principale da parte delle istituzioni è accompagnare ovviamente i tanti lavoratori e reinserirli all'interno delle aziende che abbiamo sul territorio Veneto. Questo è un lavoro che già abbiamo iniziato nel corso degli anni ma sicuramente che dovremo potenziare anche su indicazioni di questo piano che è stato approvato a livello nazionale.